fotografare la luna da ottime soddisfazioni ma ti piacerebbe fare qualcosa di ancor più spettacolare vediamo come sfruttare la luce della luna il cosiddetto chiaro di luna per ottenere paesaggi mozzafiato è una tecnica di fotografia di paesaggio poco conosciuta ma che non richiede attrezzatura particolare è facile da realizzare e ti permette di ottenere risultati davvero emozionanti ciao sono mariano di videozappo.com ti ho già spiegato come fotografare la luna in tante maniere diverse tutte spettacolari e di grande soddisfazione oggi faremo qualcosa di diverso ti insegnerò a sfruttare la luce della luna per scattare paesaggi incredibili a proposito in questo momento sono illuminato esclusivamente dalla luce della luna come t'accennavo non è necessaria alcuna attrezzatura particolare serve una macchina fotografica con la possibilità di scattare in manuale va bene anche il cellulare nella modalità pro purché ti permetta di impostare tempi sufficientemente lunghi poi serve un obiettivo adatto all'inquadratura che vuoi realizzare va benissimo lo zooming kit un treppiede se possibile robusto se così non fosse magari fai attenzione tiello più basso possibile in maniera da migliorarne la stabilità è una torcia frontale non ti fidare della torcia del cellulare per fare questo genere di foto tendenzialmente sarai in zone abbastanza remote buie è vero che con la luce della luna si vede molto bene ma è anche vero che puoi trovarti in ombra ti può accadere qualcosa a terra e magari hai necessità di trovarlo può arrivare una nuvola insomma conviene essere attrezzati anche per stare proprio tranquilli e sicuri nella descrizione sotto a questo video ti lascio i link a qualche prodotto consigliato prima di vedere come scattare cerchiamo di capire il concetto la luna piena vista dalla terra ha la stessa dimensione del sole praticamente all'incirca la dimensione dell'unghia del pollice alla distanza del braccio teso e questa dimensione è identica per cui la qualità della luce che ci raggiunge è praticamente la stessa perché la luna riflette effettivamente la luce del sole ha la stessa dimensione per cui quello che ci arriva qua sulla terra è esattamente la stessa cosa quello che cambia e cambia di tantissimo è la quantità di luce che arriva e questo è proprio il punto chiave che ci guiderà nel realizzare questi scatti e che è la cosa che in effetti crea qualche difficoltà che con le tecniche giuste possiamo superare molto semplicemente la prima cosa che devi fare è trovare una location adatta un dettaglio del paesaggio che sia illuminato esclusivamente dalla luce della luna io ho scelto questo rudere ma potrebbe essere qualsiasi cosa un paese abbandonato una montagna un albero qualsiasi cosa che sia appunto illuminata però esclusivamente dalla luce della luna non devono arrivarci altre luci qui davanti non c'è nient'altro su questo dettaglio di paesaggio su questo rudere arriva esclusivamente la luce della luna il cielo ovviamente deve essere sufficientemente sgombro da nubi questo perché la luce della luna deve arrivare in un giorno nuvoloso anche con la luna piena è molto difficile scattare perché la luce è davvero poca ma soprattutto non vedrai le stelle che sono la cosa che caratterizza questo genere di foto che somigliano come aspetto a una foto scattata di giorno ma la differenza sostanziale è che in cielo riusciamo a vedere le stelle e questo richiede che appunto il cielo magari qualche nuvola può anche star bene ma non deve essere eccessivamente coperto per scattare devi scegliere i giorni a cavallo della luna piena 3-4 giorni prima 3-4 giorni dopo vanno ancora benissimo e devi considerare la posizione della luna in cielo esattamente come faresti per una foto illuminata dal sole la luce che arriva lì ha una direzione e questa direzione che in questo momento vedi rispetto a me è praticamente frontale dipende da dove si trova la luna è arrivato il momento di scattare monta la macchina sul treppiede imposta la in manuale e disattiva ogni forma di stabilizzazione che sia quella del sensore il cosiddetto ibis oppure quella dell'obiettivo se possibile scatta in raw perché questo ti darà più libertà in post produzione la vediamo tra un istante imposta un timer di almeno un paio di secondi oppure utilizza uno scatto remoto per non trasmettere vibrazioni alla macchina fotografica nell'istante in cui scatti e imposta il bilanciamento del bianco manualmente intorno ai 4500 gradi kelvin noi percepiamo la luce della luna con i nostri occhi per una serie di ragioni che non andiamo ad approfondire la vediamo bluastra nella realtà questa luce è più calda della luce del sole questo perché la luna non è perfettamente grigia ma leggermente più calda appunto se vogliamo un risultato più vicino possibile alla luce del sole imposta a 4500 kelvin altrimenti sceglilo in base ai tuoi gusti in ogni caso se scatterà in raw potrai variare questo parametro in post produzione senza limitazioni particolari imposta il diaframma f 2 8 f 4 per avere quel minimo di profondità di campo che può essere comoda e utilizza se possibile una focale grandangolare specialmente all'inizio è parecchio più semplice se stai utilizzando lo zoom in kit mettilo alla focale più corta quella che ti permette di inquadrare più cose metti a fuoco manualmente imposta la fotocamera su mf sul dettaglio di paesaggio che ti interessa avere nitido sulla cosa più importante dell'inquadratura per iniziare imposta un tempo di esposizione di 15 secondi e gli iso intorno a 1600 a questo punto fai uno scatto di prova e verifica che tutto sia corretto in particolare messa a fuoco ed esposizione per la messa a fuoco ingrandisci il particolare che ti interessava e verifica che sia bello nitido l'esposizione è un tantino più articolata prima di tutto andiamo a verificare le stelle scegli una stella non tanto luminosa presente nell'inquadratura e controlla al massimo dell'ingrandimento se è perfettamente puntiforme o leggermente allungata se è perfettamente puntiforme vuol dire che puoi ancora allungare un po il tempo di esposizione per esempio abbiamo scattato a 15 secondi magari possiamo provare con un tempo più lungo se invece trovi che sia una traccia eccessivamente lunga per i tuoi gusti vuol dire che il tempo di esposizione è troppo lungo e dobbiamo abbassarlo una volta trovato il tempo di esposizione corretto che ci dà le stelle diciamo della lunghezza accettabile non saranno mai perfettamente puntiformi a meno che tu non usi un tempo davvero molto corto e a quel punto dobbiamo regolare gli iso e per regolare gli iso utilizzeremo gli istogrammi per capire quando l'istogramma è corretto ci vorrebbe un minimo di esperienza basati però su questa regola semplice se è tutto verso la sinistra vuol dire che l'esposizione è troppo scarsa vedrai anche la foto particolarmente scura per cui devi incrementare l'esposizione aumentando gli iso mentre se lo trovi tutto sulla destra o troppo spostato sulla destra vuol dire che gli iso sono eccessivi per cui possiamo abbassarli e questo ci permette di avere un'esposizione corretta con il vantaggio che riduciamo anche il rumore visibile ora è tutto pronto puoi scattare la tua foto stiamo utilizzando tempi lunghi dunque può sempre andare storto qualcosa conviene sempre controllare la foto appena scattata se vedi che è tutto a posto puoi passare all'inquadratura successiva in realtà si può fare anche di meglio lo vediamo tra un istante prima fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di questa tecnica proverai è troppo complicata ti è rimasto qualche dubbio fammelo sapere nei commenti perché possiamo approfondire i dettagli che ancora non sono chiari la post produzione delle fotografie di paesaggio scattate al chiaro di luna non presenta alcuna difficoltà particolare puoi trattarle come qualunque altra foto di paesaggio in realtà puoi anche utilizzare se hai seguito accuratamente i miei consigli i jpeg così come sono usciti dalla macchina fotografica se hai scattato in raw potrai utilizzare i soliti strumenti lightroom classic luminar neo raw therapy in particolare se utilizzi lightroom classic o luminar neo ho dei corsi specifici di post produzione che sono corsi completi non dei manuali del software ti insegnano proprio la post produzione partendo dalle basi utilizzando lightroom classic o luminar neo ti lascio entrambi i corsi linkati in descrizione a prezzo scontato ma ti dicevo che si può fare di meglio in post produzione puoi ad esempio ridurre il rumore utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale ai tool dedicati sia il luminar neo che il lightroom classic ma il mio consiglio è foto ai di topaz labs che con questo genere di scatti fa davvero un gran bel lavoro anche su questo software sto preparando un corso se vuoi pagarlo meno di chiunque altro iscriviti alla lista d'attesa anche questa linkata in descrizione ma c'è una tecnica che ti permette risultati migliori è completamente gratuita ma richiede un pochino di pazienza consiste nello scattare anziché una singola foto come abbiamo fatto finora una serie di fotogrammi tutti identici quindi la macchina è ferma sul cavalletto può utilizzare la funzione timelapse e scattare 15 meglio 30 fotogrammi della stessa inquadratura devi anche scattare se possibile i fotogrammi di calibrazione se non sai di che cosa si tratta iscriviti al canale youtube perché ne parleremo prestissimo e poi integrare tutte queste foto in post produzione utilizzando sequator sembra complicato non lo è affatto e ti ho spiegato qua sul canale come fare perché la tecnica è identica a quella che si utilizza per fotografare le stelle ti linko il video qui accanto dagli un'occhiata è gratis e i risultati sono garantiti io ti ringrazio per aver guardato questo video condividilo fai sapere a tutti come si fotografa alla luce del chiaro di luna ma soprattutto ricordati non smettere mai di imparare ci vediamo nel prossimo video